Se vuoi organizzare la tua vacanza, scegli Trezza Travel, agenzie per viaggiare. Chiedi la consulenza di Trezza Travel, agenzie per viaggiare e vieni a trovarci in via Balzico 51, nei pressi degli uffici dell'Ausino. Sono avvenuti ieri mattina scontri tra tifosi del Catania e della Cavese, agli imbarcaderi a Messina, dove una pattuglia della polizia era impegnata in un servizio di controllo dei tifosi catanesi, diretti in trasferta a Vibo Valencia, dove avrebbero voluto assistere alla partita valevole per il campionato di Lega Pro, mentre i sostenitori della Cavese erano diretti a Gela, dove si sarebbe giocata la partita poche ore più tardi. Sembra che si sia trattato in verità di un agguato da parte dei rosso-azzurri ai bianco-blu. Le immagini che qui vedete sono state tratte dall'edizione online della Gazzetta del Sud. A quanto si è saputo, durante il lancio di oggetti tra i sostenitori catanesi e metelliani, una bomba carta è esplosa accanto al pulmino dei cavesi e una scheggia ha raggiunto alla gamba una ragazza di 14 anni, trasportata in ospedale dove è stata medicata. I tifosi del Catania, molti dei quali sono stati denunciati anche perché privi della tessera del tifoso, sono stati rimandati a casa e a loro sono stati sequestrati mazze e altri oggetti contundenti.